Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, Padre buono e misericordioso, Ti ringraziamo perché in ogni tempo Tu rinnovi e vivifichi la Tua Chiesa, suscitando nel Suo Seno i Santi. Attraverso di essi Tu fai risplendere la varietà e la ricchezza dei doni del Tuo Spirito di amore. Noi sappiamo che i Santi, deboli e fragili come noi, hanno capito il vero senso della vita, sono vissuti nell'eroismo della fede, della speranza e della carità. Hanno imitato perfettamente il Figlio tuo, ed ora vicini a Gesù nella gloria. Sono nostri modelli e intercessori. Ti ringraziamo, perché hai voluto che continuasse tra noi e i Santi la comunione di vita nell'unità dello stesso Corpo Mistico di Cristo. Ti chiediamo, o Signore, la grazia e la forza di poter seguire il cammino che essi ci hanno tracciato, affinché alla fine della nostra esistenza terrena, possiamo giungere con loro al beatificante possesso della luce e della Tua gloria. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il Tuo nome, venga il Tuo regno, sia fatta la Tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. e non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.